Che aspetto rilassato che hai! Sì, sono stata da Materassi Outlet, gli specialisti del buon riposo. Materassi di qualità a reti, letti, divani e poltrone relax. A Senigallia, via Podesti 152. MaterassiOutlet.com Un sano riposo, a prezzi da sogno. Buon inizio di settimana a tutti quanti voi. Lunedì 28 di novembre, l'informazione di Senigallia Web TV. Ladri in fuga con le offerte del funerale rubate nella chiesa di Santa Croce ad Ostra. I gnoti hanno approfittato della funzione delle 18 di sabato per entrare negli uffici della chiesa e introdursi anche nella canonica dove vive Monsignor Umberto Gasperini. Il funerale si era svolto venerdì pomeriggio e il parroco aveva messo da parte una busta con circa 200 euro che custodiva proprio in ufficio. È stata ricoverata Torrette e la 78enne è rimasta gravemente ferita sabato mattina nell'auto ribaltata. L'incidente si è verificato in via Massa nel comune di Ostra. La 78enne di Belvedere Ostrense era uscita da casa e si stava dirigendo verso Ostra. Improvvisamente però la pensionata ha perso il controllo in discesa invadendo la corsia opposta e finendo poi fuori strada. Ladri di nuovo in azione venerdì pomeriggio sono entrati in via Firenze in un appartamento al primo piano approfittando dell'assenza dei proprietari. Dopo essersi arrampicati sul balcone hanno rotto la finestra e da quella si sono introdotti nell'appartamento. Il bottino è stato quantificato in circa 100 euro. La FIDAPA in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne ha organizzato presso la Biblioteca Comunale di Senigallia un evento rivolto alla cittadinanza. Era presente la dottoressa Cinzia Nicolini, vicequestori aggiunto di Ancona, che ha relazionato e ha portato la sua testimonianza sul tema violenza sulle donne e la fiducia che si può trovare nelle istituzioni e nelle associazioni. La FIDAPA di Senigallia sta seguendo un percorso che è quello nazionale. Ecco perché il logo che abbiamo voluto fortemente sul nostro manifesto è un logo nazionale. Il logo recita così FIDAPA dice no alla violenza. Dice no alla violenza in tutte le sue forme, collaborando come associazione con altre associazioni e facendo da tradunione tra le istituzioni e le associazioni. Allora fiducia nelle istituzioni, ecco il contributo. Io dirigo un ufficio che fa prevenzione ed è il primo ad arrivare quando ci si chiede aiuto. Il primo ad arrivare è il primo che dà questo aiuto, che è un bene prezioso e quindi cerchiamo di avvicinare, di prevenire quello che può essere una violenza, un reato nei confronti di una donna che in quel momento ci chiede aiuto. Noi siamo qui, associazioni e istituzioni, per offrire quel bene prezioso che è la sicurezza. Tutte le donne devono credere in noi, come tutti i cittadini, d'altro canto. Cambiamo argomento. La protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse, per vento forte, valido fino alle 12 del 29 novembre. L'avviso prevede vento forte, con possibili rovesci e temporali, in particolare lungo la fascia costiera centro-settentrionale con raffiche da nord-est di velocità massima di 75 km all'ora. Il comune di Barbara ha già dato avvio ai festeggiamenti della patrona Santa Barbara sabato 26 e adesso si prepara per il prossimo weekend, quando il 4 avrà il culmine con fiera e fuochi d'artificio. Sabato 3 dicembre presenteremo il libro La terza guerra del dipendente con l'autore professor Marco Severini e la coautrice professoressa Lidia Pupilli. Poi domenica alle 10 in sala consigliare il saluto del sindaco all'autorità. Ho invitato anche la sindaca del comune di Monsampietro Morico, provincia di Termo. Lei è l'avvocato Lomina Qualchieri, che è un comune molto terremotato, anche è un comune chiuso, terremotato, se ne parla poco perché è piccolo. È un comune una frazione, faremo un trancio, quello istituzionale, che facciamo tutti gli anni per le autorità. Le offerte a favore di questo comune. C'è la Santa Messa agli 11 con Manenti Tranco, tra le 15.30 la processione, i fuochi d'artificio. Lo sport, calcio sfumata per la Vigo Senigallia, la possibilità di sorpassare la diretta rivale per il primo posto in classifica, perde di misura Barbaro con un gol di Carletti Orsini, che permette così alla sua squadra di rimanere in testa alla classifica del campionato di promozione Girone A. Coppa più Sebastianelli, uguale successo 2-0, equazione vincente dell'FC Senigallia, che grazie al suo bomber e al suo metronomo del centrocampo nel cuore della ripresa piazza due colpi mortiferi per il Valfoglia, tornando così mediatamente alla vittoria dopo il K.O. di Fano con l'atletico Alma. Pallavolo, grande partita dell'US. Pallavolo Senigallia nell'anticipo del venerdì della Serie C femminile. Nelle razzurre di coach Paradisi hanno battuto, con un netto 3-0 il Montecchio, che veniva anch'esso da buoni risultati e che soltanto poche settimane fa aveva fatto soffrire le senigallesi in Coppa Marche. E concludiamo come al solito con le condizioni del tempo di martedì 29. Cero sereno poco coperto, assenti le precipitazioni, venti ancora particolarmente sostenuti dal nord-est al mattino, temperature ancora in drastico calo. Previsioni elaborate da Assam. Grazie per l'ascolto. Il prossimo appuntamento è quello di domani. Vi aspetto.